Intro 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 Benvenuti nella seconda parte dell'unboxing lego Batman Vs Supergirl per me. Sono riuscito a mettere la cosa di Batman, ho scoperto che lui ha questo, un'altra arma che viene messo dietro, dicevo YouTube sta portando tante modifiche anche del linguaggio delle cose volgari eccetera eccetera, è vietato, la monetizzazione non si può fare più. E quindi, vedete come va, va così, e questo, e quindi, e quindi la monetizzazione non si può fare più. Beh, si attaccano? No, comunque sono di carta, il mantello, quello di Superman. Ma questo va qui secondo me, e questo va qui, e si riesce a mettere a incastro sti accessori di Batman, e ecco, ho trovato, eccoli qui, gli accessori di Batman dietro, e mi è uscito un ricambio di questo, non so se va a due o uno, ma questo lo teniamo nella bustina e riservatezza, e come dicevo, tanto questo lo mettiamo qui, Superman l'abbiamo fatto, Superman ha una specie di porto di plastica, che è questo, e dove deve essere inserito lui, va dove? non ho capito, ah va qui, va qui, c'ha i buchini per attaccarlo, una specie di scaletta gli hanno fatto, e ora ve lo faccio, madonna mia B, non si vuole attaccar sto coso, perché? ma ... e ... niente ... Ha una specie di... ora ve lo faccio vedere, prima che... ecco, ha una specie... il mantello di fare questo, come potete vedere nella foto. Allora, ci sono queste regole da fare e tutti i pezzi sono qui, e purtroppo YouTube sta facendo, diciamo così... quanti pezzi sono questi rossi? Allora, dobbiamo mettere... due... e due... così... poi... mettere... altro pezzo nero... poi grigio o nero... No, allora, dicevo... Allora dicevo, di solito dovrebbero essere i pezzi, perchè qui mi ritrovo un pezzo rosso Ah è qui intendo ecco, ah quelli dei li occorrono, giusto, aspettate un attimo Voglio capire com'è Poi Aspettate un attimo Ah eccoli i pezzi, sì sì Allora abbiamo questo e uno va qui E uno va qui Ah quindi vanno Chiedo scusa, dicevo YouTube sta facendo purtroppo dei, io chiedo scusa se mi interrompo perchè mi concentro Dei cambiamenti Esci Dove è andato il pezzo Prendo un attimo il pezzo e ritorno Pezzo ritrovato, dicevo Adesso abbiamo aumentato anche il piede Fantastico E YouTube sta facendo queste modifiche E quindi E quindi E quindi Sta facendo queste modifiche Diciamo così Diciamo così Non va qui E allora Perché Sta facendo queste modifiche Diciamo così Allora Come ho messo io Va bene E Uno va qui E un altro va qui Sta facendo delle modifiche Sui contenuti Chi è adatto al pubblico Maggiorenne Minorenne Eccetera eccetera Mentre Cos'è Ehm Questi dove vanno Sopra Non so dove vanno questi pezzi Aaaaaah Vanno Infine Vanno Qui Cioè io mi sto Confondendo No Mi sto confondendo con questi maledetti pezzi, avete capito? No no, proprio questi devono essere, e dove vanno, vanno sopra questi, ah, questi vanno su, e va così, quell'altro pezzo, Allora, quell'altro pezzo va qui, è tipo una scala, deve essere, giusto? Però non così, comunque, stavo dicendo, deve andare così, ah, abbiamo capito, giusto, poi, passiamo, due pezzi grigi, devono essere questi, e due di questi, ok, dove vanno i grigi, ok, ok, grigi vanno insieme, eh, grigi, poi, questi vanno qui, Quindi abbiamo la prima parte, Ah, qui, questi vanno qui, scusa, giusto? Ehm, vanno qui, poi questi vanno nei lati, così. Poi abbiamo i due bastoncini lunghi, che devono andare sotto qui, ecco, due di questi, e YouTube praticamente sta l'ascendo, e quindi praticamente avviene così, andiamo avanti, siamo a 9, quindi abbiamo bisogno di altri pezzi qui, Sì, non so, mi sa che era questo, sì, sono questi, altri pezzi, eh, erano quelli lì, vero? Sì, altri pezzi, questi, due, eh, questi nuovi. Allora, cosa succede ora? Dovremo mettere qui ai lati, io non so perché, aspettate un attimo, ecco. Sì, sì, così. E quindi abbiamo la base ai lati, ero qui, ora dobbiamo fare il 10, che è qui. che sarebbe la retina, questo pezzo che era uscito, e che va a incastro qui nel centro. Eccolo qui. E poi serve uno di questi, uno di questo, che è un altro pezzo, che non lo riesco a trovare, che deve essere un piccolo pezzo nero, eccolo qui. Trovato. Allora, il pezzo nero va qui, qui sopra, che sarebbe questo. Ok. Mentre questo, forse qui. Quindi abbiamo completato la riga. Poi serve... La cosa... E due di questi grigi. Allora, ci serve questo, che adesso deve andare vicino alla... qui, alla... vicino alle scale, in teoria. che non lo riesco a capire... Ok. Come deve essere infilato. È un buco. Ah, ecco perché. Perché è un buco, e quindi... E quindi... Questo va al centro, diciamo. Andiamo... Due di questi grigi. Come potete vedere, vanno adesso qui. Così. Allora, questo pezzo, in realtà... Dovrebbe... Andare qui. Io non lo so perché non vuole entrarci. Non cascare. Grazie. Allora, vediamo un po'. No. Ah, ecco l'ho trovato. L'ho fatto. Ecco. Tredici.